Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video mattutino del Gobbo Toscano allora intanto cominciamo a mettere, scusate la voce ma sono distrutto cominciamo a mettere i like, cominciamo a iscriverci al canale cominciate a condividere il contenuto come tutti i nostri vecchi contenuti interessanti e commentate, commentate a raffica dai abbiamo come obiettivo i 5.000 iscritti entro fine estate dobbiamo riuscirci perché comunque gli obiettivi è giusto porseli e ce la dobbiamo fare detto questo cominciamo con l'argomento di oggi l'argomento di oggi è qualcosa di, cioè già da ieri sera l'argomento di ieri sera è di oggi a del clamoroso del clamoroso perché? perché Pogba avrebbe ricevuto un'offerta dall'Al Itihad scusate se lo pronunciamo male da tre anni di contratto per un complessivo tra bonus e stipendio annuo un complessivo di intorno ai 100 milioni di euro cioè vi immaginate voi 100 milioni di euro cosa sono? ecco, per una squadra come l'Al Itihad allora, detto questo ci può stare ormai il calcio si sta spostando tutto in Arabia io da europeo vi dico che comincerei a fare qualcosa a prendere dei provvedimenti a mettere delle, non lo so, dei paletti dei paletti e non si può spendere spandolo cioè tutti abbiamo delle regole quando però poi si parla di arabi loro non ce le hanno vedi Paris Saint Germain e vedi Manchester City perché anche chi ha delle squadre in Europa può fare quel che cazzo gli pare a casa nostra e questo ci tengo a ribadirlo se ci sono delle regole vanno rispettate e valgono sia per l'italiano sia per il tedesco sia per il francese sia per l'inglese sia per l'arabo non è che arriva l'arabo è perché c'è i soldi a meno regole di un altro detto questo cerchiamo di fermare in qualche modo ora non lo so come perché io sono l'ultimo della lista e potrebbe, come si dice fermare una roba del genere però, detto questo secondo me se si continua così ci porteranno via tutto e tutti i giocatori noi faremo un calcio non provinciale di più e l'idea che si possa andare a giocare nella Saudi League o una Juventus io vi dico a quel punto lì veramente se la Juventus mi va a giocare con l'arabi quel punto lì ve lo dico anche io smetto proprio di seguire il calcio perché io il calcio lo vedo uno sport europeo e come se mi dicessero l'NBA si sposta io seguo l'NBA e l'NBA si sposta in non lo so in Cambogia e l'NBA la devi guardare la tua squadra e l'NBA tipo i Chicago Bulls o i Lakers vanno a giocare in campionato ma per carità di Dio non credo che nessun tifoso dei Lakers vada a seguire i Lakers in Cambogia detto questo speriamo che cambi qualcosa per quanto riguarda Pogba per quanto riguarda Pogba è comunque triste la cosa è triste ma non perché Pogba va io vedo tanti che dicono allora e prima no ma chiedete scusa a Pogba perché si sta allenando e chiedete scusa a Pogba perché si riducirà lo stipendio fino a prova volontaria ancora lo stipendio di Pogba è a 8 milioni più o meno 8 quanto cazzo è ora ve lo dico subito stipendio attuale di Pogba almeno si ragiona stipendio Pogba il stipendio di Pogba è esattamente 10 milioni scusate 8 io ero stato troppo bravo ero stato troppo bravo ecco 10 milioni virgola 26 di stipendio per un trentenne io direi che adesso ad oggi prende quello e l'ha presi per un anno in cui ha giocato una settantina di minuti per carità Pogba è forte Pogba di qua ma il discorso amore per la maglia se lui è già agli allenamenti allora che cazzo vai a fare in Arabia dice una visita personale ma non ci vai se non vai in tournée perché ti vuoi allenare allora non vai neanche a fare le vacanzine e rimani allenati cioè io non è che andavo da Torino a Milano e le andavo in Arabia Saudita e che vuoi dire c'è un volo ci sono delle ore lui sta cioè a me quando uno fa i discorsi e dice io voglio dare tutto per la Juventus perché sto qui è casa mia è quello e quell'altro bene per carità di Dio per carità di Dio però se io lo voglio fare lo dimostro anche non lo dico e basta cioè io cerco a quel punto di farmi vedere all'opera come ha fatto lui il prima possibile ma no poi dopo una settimana e poi arriva un tifoso lì in locale che sia vero non sia vero non mi interessa che gli chiede ma verrai alla Al-Hitiad qua in Arabia e gli dice oggi no domani forse oggi no domani forse ma io ti dico con tutti questi tir e molla tanto io guarda ci scommetto un dito non una mano ma un dito ce lo scommetto che a 20 partite purtroppo e mi dispiace a 20 partite anche questa non tu ci arrivi ma io dico allora scorta questi discorsi uno piglia va in Arabia come se io so ad un'azienda sto male ragazzi rientrerò il prima possibile i video che fa fisioterapia grande ora rientro a lavorare e poi ando a metà dell'allenamento piglio e poi alle Maldive in vacanza ho la mia moglie la mia figliola ora ma rimma puttana ma continuo a allenarti detto questo se vuole andare vada ma chi se ne frega il problema è che bisogna mettere un punto fermo su queste trattative allora noi vabbè lasciamo perdere il discorso politico perché se no se entran dei meandri non se ne esce più che non se ne esce più perché vi volevo fare semplicemente un esempio no c'è un esempio che con la Russia non ci sa più a che fare perché loro hanno fatto la guerra all'Uraina e poi li lasciamo perdere chi ha ragione e chi ha torto ma vi faccio proprio un discorso semplice semplice ok abbiamo smesso di farci noi Italia di farci trattative e però e si sono tolti dallo sport si sono tolti ma però in Arabia non penso che succedano nei paesi arabi cose tanto più belle che quelle che sono successe tra Russia e Ucraina forse che un vengono fuori e che un si dicono no quindi io direi da andarci cauti perché spostare veramente tutti i business di là è la rovina del mondo occidentale è la rovina di tutto di tutto ora se Pogba sia contenti e l'arabice annognosa e noi si guarda da spettatori fate pure però io la vedo una cosa veramente ridicola comunque che sia vera o no questa offerta io di Dio solo e se Pogba era lì ripeto che sia vera o no vuol dire che tutto questo grande amore per la Juventus tu sai tu sei indietro con la preparazione perché comunque tu sei stava male tutto l'anno scorso ti ha fatto una minchiata a non operarti subito in menisco e ti sei fatta passare e poi va bene accolto l'ovazione allo stadio quando entra 20 minuti si rompe e ritorna fuori tutto a piangere bene e ora si mi ridurre lo stipendio non mi pare ad oggi poi mi rimetto in forma prima ci prova e poi va a fare le vacanzine è come l'anno scorso rotto e si fa le foto in montagna boh io veramente a me queste cose queste cose mi danno fastidio ve lo dico sinceramente sarò un controtendenza contro tutti quelli che dicono oddio madonna andrà via Pogba mi dispiace calcistiamente parlando ma se mi dirò una persona poco professionale da questo punto di vista cioè uno se andava in america ti diceva bene tutti sono in vacanza fino a oggi però no fino ad oggi c'era il raduno e lui invece invece di essere il raduno è un'arrabia ora dice vabbè ha cominciato prima ma è stato lui a decidere di cominciare prima un nec che dice cominci prima e smetti prima ha cominciato prima per Fanosa più più specifica e invece ora è un'arrabia a farsi i selfie alla Mecca io te lo dico Pogba con tutti i beni se tu vuoi rimanici alla Mecca io non so più che ditti ragazzi ci vediamo oggi in live ne parleremo oggi in live alle 14.30 fino alla fine Forza Juve mettete un like mi raccomando dai 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 ciao ciao Grazie.